Il tempo, le piogge incessanti per una settimana la metà dell'Italia è in allerta a Ravenna Educational Services and Schools ha chiuso domani come precauzione, anche Ravenna chiuderà servizi educativi, scuole tutti i tipi livelli tra cui formazione professionale, aggregazione giovanile, diurni per anziani disabili socioimpiegati.Ciò è stato ordinato dal sindaco della città Romagna, Michele De Pascale, alla luce delle previsioni del tempo che indicano un'ondata grave maltempo da stasera domani. Mercoledì.Le chiusure, spiega una nota dell'amministrazione Ravenna, sono state definite a livello precauzionale, anche per non aggravare le questioni critiche sul sistema stradale municipale. Per una possibile chiusura di mercoledì si aggiunge gli aggiornamenti seguiranno i soliti canali di informazione. Le scuole hanno anche chiuso in vari comuni Romagna il 16 maggio, è stato ordinato un blocco precauzionale per le scuole di numerosi comuni Romagna tra cui Cesena, Forlì, Faenza, Cervia, Bagnacavallo e altri. L'invito ai cittadini sottolinea la regione Emilia-Romagna in una nota è quello di evitare il viaggio il più possibile e ricorrere, ove possibile, al lavoro intelligente. La possibilità di avere, a partire da oggi, le colonne mobili nazionali sono già state attivate nelle aree strategiche per garantire operazioni immediate in caso di necessità. Nel frattempo, le unità rinforzo sono state schierate nei comuni di montagna in cui si sono verificate frane ed evacuazioni, al fine garantire il supporto organizzativo. In Campania Orange Alert fermati alle vari comuni dopo che l'avviso meteorologico arancione è stato emesso varie aree Campania, molti sindaci della regione hanno deciso mantenere scuole chiuso. Nell'area napoletana, lezioni saranno sospese Ischia, Acquameno, Casamicciola Terme, Sorrento, Meta, Piano Sorrento, Quarto, Massalubrense, Procida, Monte di Procida, Villa Ricca, Sant'Antimo, Arbie, Qualiano, Pozzuoli, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Afragola, Giuliano, Castellamare Stabia e Frattamaggiore. Nella zona Salerno, Scuole Chiuse Salerno, Battipaglia, Corbara, Nocera Superiore, Nocera Induriore, Sarno, Cava de Tirreni, Castel San Giorgio, Pagani, Sant'Egidio del Monte Albino, Rocca Piemone, Angri, San Valentino Torio, Fisciano, Vietri sul Mare, Sapri, Pellezzano, Scala, Santa Marina, Maiori, Siano. Nella zona Caserta, hanno chiuso, tra gli altri, Succevo, Aversa, Villa Limerro, Casaluce, Carinaro, Casal di Principe. Mattarella a Napoli per inaugurare il liceo della magistratura.